In questo momento esce con questo libro virus, la quantità di merda che è arrivata addosso, non voglio dire, perché ci ammazza. Proprio adesso è uscito con il libro virus, lui dice quando vuole uscire? Giustamente, dal punto di vista... a me la battuta più divertente su questa cosa... Perciò stava riuscita, come cercava di spiegarmi l'amico Dario, invece questo è ufficiale, l'istituto di sanità, l'amministratore della sanità, con tutte quante le istruzioni così, che vi dovreste leggere... A furia di lavarmi le mani mi sono riapparsi gli appunti di matematica delle superiori, quelli che uno si scriveva... Fortuna vostra, ci ha pensato Barbara d'Urso a farvi vedere praticamente come si fa. Questa è una sintesi. E io ho imparato come ci si lava le mani, Asogna, lavare bene così, naturalmente, palmo contro palmo, poi bisogna, guardate, così, la destra sulla sinistra, la sinistra sulla destra, poi bisogna ben bene igienizzare il pollice, un pollice, l'altro pollice, e alla fine con il palmo sfregare bene qui e sfregare bene qui. Sul pollice, me sono arrivato! Guarda che così si impara di più! Ok, sul pollice mi sono arrivato, è una delle più belle della settimana. L'ho dovuta tirare fuori subito, io non la facevo. L'ho dovuta tirare fuori subito, mi dispiace. Insomma, magari... Comunque... ...